in un TEDx di quattro anni fa anche tu stessi hai detto in un qualche modo testuali parole la felicità destra sospetto si 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 destra sospetto perché ti devi un po' vergognare se le cose si danno bene cioè nel senso che quando c'è di solito la domanda come stai tutti va beh tutto a posto si tira avanti tutto bene è normale no ma tutto bene io rispondo sempre meglio la tiro e mi voglia attirare le invidie no sempre meglio io sempre meglio sempre se ti rispondi a uno come sta uno che ti vede come stai sono felice guarda penso che ti ami così no penso che ti ami davvero noi ci stiamo felici cioè perché è strano cioè se ti ci pensi bene e quando quando ti succede una sabella no che c'è uno scatto su qualcosa poi ho fatto il podcast e sta andando bene mi arrivano dei soldi ho tanti soldi mi sono comprato una macchina nuova al lavoro mi hanno dato un aumento beh come ma che c'è dietro che c'è di solito si torna a casa e c'è sempre una donna che in questo caso vedi come molti casi sono molto più lungimiranti se te c'è una compagna una fidanzata una moglie quando ti succede una cosa bella ti dice zitto uno di a nessuno è vero anche la mamma di solito la tua mamma non lo dirà nessuno ha ragione perché in effetti per un meccanismo di fisica entrofica interessante forse l'entropia del sistema nervoso fa sì che se mi succede una cosa bella a me ti girano le palle e te c'hai solo un modo per farti girare meno le palle rompermele o anche giustifica dare una giustificazione al motivo per cui ti è successo per cui stai bene a te pensa com'è bello quando rompi le palle a fede se la ferragni no cioè te pensa la meraviglia ora di di ha visto a vedi l'avevo detto prima poi balliva allora vedi lo vedi ci sta bene ma perché vabbè si torna al discorso quando una volta in cima si ma in base a quale logica che problemi sai ma per come fai a godere se cioè io godo molto di più se le cose vanno male a te piuttosto che se vanno bene a me ma come stai sì sì no è non farò c'è da dire che io non ho mai conosciuto qualcuno in pace con se stesso a posto della sua vita che butta così tanta così tanto odio su altre persone di solito secondo me chi lo fa c'è una frustrazione ma chissà bene non lo fa di solito ovvio ovvio però l'odio è anche necessario no se no ci romperemo tutte le scatole della mattina la sera volerci bene cioè è importante anche l'odio è anche un come dire è un ingrediente sociale e quindi anche social che è necessario perché va disinnescato perché comunque del momento in esiste il bene esisterà un male cioè ce lo insegna la religione cattolica e guerre stellari è uguale però voglio dire ci sono anche delle formule no cioè non è che possiamo sempre dare più valore al male perché sennò diventiamo tutti dei guaglieristi invidiosi e che che bazzicano nel nell'ombra e che sguazzano nel torbido invece poi non è così perché noi viviamo in un paese che io io lo giro tanto veramente faccio spettacolo in giro per tutta italia ma l'italia non è non è così non è così l'italia è un posto è fatto è pieno di persone per benissimo persone non io non penso che sia un paese razzista non penso che sia un paese ma come pericolo fascismo ma zero ma c'è l'italia se te vai in autogrill è un posto stupendo dove mangi benissimo dove incontri tanta gente dove se te vai a vercelli come a bolzano vai a pachino vai a catania trapani cioè se te hai fame trovi qualcuno e ti dà da mangiare non succede in tutte le parti del mondo questo cioè è un grande paese che noi anche la visto che l'italia è un paese buono abbiamo bisogno di buttarlo giù dicendo che siamo delle merde dei razzisti degli obofobi e dei patriarcali che ce l'abbiamo le donne ma non credo non credo credo come diceva il proverbio è vero fa molto più rumore un albero che cade di una foresta che cresce ma ogni tanto però dio bono quella foresta che cresce guardala perché se no se senti solo gli alberi che cadono e vivi male è un bello